Ciao ragazzi, io sono Krivel e oggi siamo qui in questo nuovissimo video su GTA V Online Ragazzi, oggi siamo nel parkour mods numero 2 creato da modsvinci Ragazzi, prima gara moddata da lui 3, 2, 1 e let's go, ragazzi, andiamo, siamo in un bel po' Ringrazio tutti quelli che sono entrati Ok, allora, F1 ragazzi, molto molto bella Oh Luca, che te si suoni, che sei qua? Oh Madonna No, no, raga, il check, il check, il check, il check Hello, it's me, respawniamo che facciamo prima Comunque ragazzi, volevo dirvi grazie per i 425 iscritti, vi ringrazio tantissimo E se volete giocare e legare con me, ragazzi, in descrizione c'è Telegram e Instagram e la crew Li sarete aggiornati su tutto, ok No, che ho preso, che ho preso, vince, 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 mannaggia a te vince Mannaggia, vince ragazzi, mannaggia Ok, allora, facciamo wallride qua Ok, siamo in scia Prendiamo il tubo No, no, Luca, 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 ti prego, eh Luca Madonna come l'ha tenuta, raga Come l'ho tenuta Eh, vabbè Non ci posso fare niente Ok, ci risiamo Ora dovrebbe andare bene Che è qua Oddio, veloci, 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 veloci Ok, raga Ci arriviamo perfettamente nella piattaforma E siamo con gli UFO Bellissimo sto pezzo degli UFO, ragazzi Molto, molto bello Allora, dobbiamo recuperare qua Perché siamo quarti Dobbiamo arrivare primi Almeno il podio, raga Il podio Per favore Il podio Facciamo passare Oh, madonna, madonna Scusi, scusi Ok, passa Ok, perfettissimo Ragazzi, prossimo obiettivo Provare ad arrivare ai 500 iscritti, raga Sarà durissima Ma ci proviamo Dai, ci proviamo Ok, qua ci avevo aspettato pure Vincenzo Ho visto Ah, piano Raga, sono un folle Sono un folle Quanto sono andato veloce Ok, ci risiamo Perfetto Con calmissima Pezzi del nightclub Mi pare questo Mi pare che sono pezzi del nightclub Molto belli Ok, a Vincenzo non gli piace la gara Che ha crea Che ha creato Ok Però secondo me è molto carina Molto carina per essere la prima gara moddata Ok, perfetto Bella moddata Bella, bella, bella Peccato che non si può suonare con la F1 Vincenzo mi pare che è caduto Ok Andiamo avanti Perfettissimo Ok Qua Oddio, uno dei miei pezzi preferiti dove devi saltare da una parte all'altra Allora Con calma Oh, madonna vince Madonna mia Ragazzi Ci ha buttati proprio con una cattiveria che Manco io so Ok, con calma Vince Con calma anche tu Mi voleva accettare nella sua gara ragazzi Ahiaia Vincenzo Perfetto Così Ultimo pezzo E Andiamo Con calma Ok Andiamo a prendere il checkpoint Vincenzo buonasera Cosa ha scritto? Scusa Vai tranquillo Vai tranquillo Vince Mini carro armato Pure questo Raga Moddatissimo Vince Con calma Con calma Madonna Madonna No raga No 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 Perché cittano Perché Ci può stare Dai Ok Ok Ci risiamo Ci risiamo Allora Qua con calmissima Perché se sbagli qua Ci dobbiamo rifare tutto Visto che è piccolissimo Sto carro armato Ok Qua bisogna saltare Se riesco Vi lascio anche La gara in descrizione Se riesco a trovarla Così almeno La giocate anche voi E mi fate sapere Il vostro parere Nei commenti Vince Che dei trolli Che dei trolli Che dei trolli Via via Fatto cadere Mannaggia a me Aspettiamo qua Il Cosa qua Che non mi ricordo Come si chiama Perfetto raga Ho una memoria di ferro Oppure questi altri pezzi Del nightclub E qua c'è Il teletrasporto Andiamo Andiamo Ok perfetto Ah bellissimo Pure sto pezzo Raga Però bisogna Mi ha detto Che bisogna andare veloce Perché se no qua Si impianta Come ora E abbiamo fatto male Raga Andare laggiù Abbiamo fatto male Mannaggia a noi Ok No 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 Si 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 Ok ci siamo Grandissimo Perché ha concluso Oh Dove vado Dove vado Vince Buonasera Ti sei bloccato Mannaggia a te E attiva pure il turbo Non so se avete senti Sentito ragazzi Sentito Mi sono trollato pure io Mannaggia a me Mannaggia a me Mannaggia Ok Mannaggia Buonasera Buonasera Grazie per avermi fatto passare Buonasera ma Sono le 4 GG Rekt Ok Andiamo Bellissimo sto finale Di Ufi Al contrario Andiamo a concludere Ragazzi L'aspettiamo Andiamo a concludere Venga Venga Vince Andiamo Andiamo Vai vai Vado io Vado lei Vado io Bella V Che ragazzi Anche se questo era un mini video Vi volevo far vedere la gara di mod Vinc Spero che questo video vi sia piaciuto Lascio tutti i link in descrizione E noi ci vediamo ad un prossimo video Bella ragazzi